Per il coach nel banco di Sardegna, Yaramaz, linea di fondo, cerca uno scarico in punta, Scisco messo in ritmo, anzi si tratta ovviamente di Obst. Anche il canoniere D'Angelo Harrison di Brindisi o l'Holleman di Banford, insomma, rischi di prendere una qualificata molto buona. Pi giro sul perno per Hunter, Obst attende in punta Yaramaz, c'è Logan sulle sue tracce, il blocco di Hunter contiene Borra, pallone fuori, ancora per Obst, palleggio, arresto e tiro con Rara. Fuori ma è micidiale nel cercare di cacciarti la palla da dietro o di cercarti di rubartelo. Obst, palleggio, arresto e tiro dopo. Ma è probabile che lo faccia Tiger's Battle. Tutte le combinazioni possibili praticamente sul perimetro. Hai molte possibilità, sì. In questo quarto è spiccioli, dentro per Schilling, si sbraccia Deshaun Thomas a terra. Schilling nel frattempo, pallone sparato in angolo, Obst che attacca Chessa sul club. Sopra fino nel creare gioco con i suoi passaggi. E poi l'atletismo diffuso nei vari ruoli, va Mecovulo a concludere, sbaglia, ma c'è il tap-in di Barnell che ha tanto da offrire dal punto di vista dell'esplosività sotto le plage. Il tetto del Bayern. E Dinamo che tira, scusa Roby, con il 65 dal campo e con 6 su 9 da 3. E testimonia questo, anche un'ottima scelta dei tiri. Scisco dal palleggio, rolla dentro Schilling, palla in angolo, la finta e poi coinvolto dentro ancora Schilling. Riapre per Obst, Vladimir Lucic, l'uscita dal blocco verticale di Obst, poi Ogunsipe. Ancora il consegnato per Obst. Dalla media il tiro non è gratuito.